Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lele King TV quest'oggi ragazzi vi faccio vedere che sono usciti dei nuovi eventi sul Dream Team quindi sui football 2022 degli eventi un po' inaspettati perché ci aspettavamo tutti ormai gli eventi il 21, invece il 21 ragazzi usciranno nuovi eventi che andranno a sostituire questi più il campionato e-football che è molto interessante, non vedo l'ora di giocarlo detto questo ragazzi vi vado a spiegare in cosa consistono questi due eventi che sono usciti allora il primo, come potete vedere qui sulla sinistra, che scade fra quattro giorni è quello online, ok? ed è questo qua, ci dà punti GP più punti allenamento ok, qui ci dice la sfida 1 bisogna portare un minimo di un punto in un massimo di 3 partite la sfida 2, 3 punti in 3 partite la sfida 3, 5 punti in 3 partite questo si gioca soltanto online quindi soltanto con altri giocatori allora la prima sfida vincendola abbiamo 2000 punti GP e 1000 punti esperienza allenamento la seconda volta 100 punti GP seconda sfida 2000 punti GP e 1000 punti esperienza e poi dopo 100 punti GP per ogni partita vinta sfida 3 sono 4000 punti GP più 1000 punti esperienza per 2 e 100 punti poi nelle seguenti vittorie quindi aumenta nella sfida 3 che diventa un po' più complessa perché la sfida 1 insomma un punto è un pareggio quindi è anche facile farlo in 3 partite 3 punti in 3 partite basta vincere una partita quindi è abbastanza abbordabile 5 punti significa che bisogna vincere o 2 partite o vincerne 1 e pareggiarne 2 ok ragazzi? quindi diventa già più complesso perché insomma l'arte non è che ci stanno a guardare a noi per farci fare punti anche gli altri vogliono portare punti a casa questa è la prima sfida è quella online la cosa interessante ragazzi è questa qui la Spanish League che scade fra 8 giorni ok? quindi dopo ancora l'aggiornamento del 21 io ho già giocato alcune partite ragazzi si fanno punti molto facili possiamo scegliere qui in livello avversario il livello del nostro avversario io adesso a provare ho provato medio ma ho stravinto tutte le partite praticamente come potete vedere e succede che ci danno dei punti ok? dei punti adesso io adesso qui su informazioni ecco qui possiamo scegliere avremo dei punti extra bonus giocatore se mettiamo in campo giocatori di queste squadre come vedete Manchester United Arsenal Chelsea Tottenham ma ci sono tutte le squadre che fanno parte del pacchetto Roma Lazio Napoli Juventus e via dicendo fanno parte del pacchetto di football i premi sono che quando arriviamo a 250 punti che è semplicissimo arrivare a 250 punti basta vincere una partita abbiamo 2000 punti GP e 1000 punti esperienza la stessa cosa se arriviamo a 500 a 1000 punti diventano 3000 punti GP 2000 punti 3000 punti GP 3000 punti 5000 punti GP e poi a seguire sono 1000 punti ogni 1000 punti sono 100 punti GP ok ragazzi? allora questa io ve la consiglio uno perché è un modo semplice per fare punti GP perché possiamo scegliere anche il livello del nostro avversario quindi se qualcuno si sente pronto a giocare a un certo livello lo può fare fare esperienza offline completamente offline e fare punti si può scegliere il livello adesso vi faccio vedere vedete io giocando in questo livello medio faccio 691 punti ok? quindi io se inizio dal da zero praticamente già supero due livelli ok? perché il primo livello è 250 punti il secondo è 500 se noi andiamo aumentare mettiamo campione ragazzi vedete? diventa un 929 punti ragazzi poi dipende sempre dai giocatori che mettete in campo questo ok? quindi ragazzi vi consiglio da mettere i giocatori in campo che fanno parte del pacchetto dei giocatori di queste squadre qui ok? per prendervi i bonus e fare più punti possibili queste sono le novità a livello degli eventi che ci sono sui football che sono usciti un po' a sorpresa sia online che offline poi vabbè c'è la partita veloce quella classica però non è competitiva ragazzi non vi dà punti quindi non lo so se volete farla fatela ma secondo me è inutile farla perché non vi dà punti l'ultima cosa che volevo far vedere è il negozio punti e i football che sono questi punti che per adesso si ottengono si ottengono con gli accessi e qui c'è una lista i giocatori si possono prendere questi punti i giocatori sono questi come vedete non sono pochi punti perché 5000 punti vogliono per prendere questi giocatori noi ce ne abbiamo 200 con gli accessi e scadono fra 172 179 giorni e più possiamo prendere i punti alcuni punti possiamo prendere altri oggetti che sono il nuovo del contratto i punti allenamento qui ce ne sono addirittura 4000 1000 punti allenamento e 100 punti allenamento ok questo anche è una novità che è uscita su il football ok ragazzi io a questo punto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti